La catturarono il 7 agosto 1944. Tornava da una consegna di armi alla base di Castelmaggiore e portava con sé documenti cifrati. Per i carnefici aveva una doppia colta. Si rifiutava di rivelare i nomi dei compagni. Ed era una donna. Si alternarono su di lei in tanti, ognuno inventando nuovi tormenti e sevizie innominabili. Ma la mimma non parlava. La baldanza si trasformò in livore e frustrazione. Avevano fatto parlare tanti uomini, spesso grandi e grossi, robusti come tori, cocciuti come muli. E quella lì, una donnina così, esile, niente, non apriva bocca. E li fissava con quei suoi grandi occhi che risaltavano sul viso magro e la fronte ampia. Li guardava con un mutuo disprezzo, tutto il disprezzo del mondo concentrato in quegli occhi. così la cecarono. Era ancora viva quando il 14 agosto gli aguzzini la scaraventarono sul marciapiede al meloncello sotto la finestra dei genitori. Uno disse, ma ne vale la pena? Dacci qualche nome, no? E potrai entrare in casa, farti curare. Dietro questa finestra ci sono tuo padre e tua madre. Mimma non rispose. La finirono con una raffica di mitra e se ne andarono imprecando. Nell'istituto della resistenza ho letto la testimonianza di un compagno di Irma Bandiera che faceva parte del suo gruppo, un partigiano chiamato Cestino. Appresa la notizia della cattura si pose il problema se abbandonare dei rifugi da lei conosciuti. È sempre stato così. In qualsiasi lotta di resistenza a dittature, in qualsiasi parte del mondo, tutt'al più dal combattente caduto ci si aspetta qualche ora di silenzio per dare il tempo agli altri di fuggire. Ma poi non si può pretendere da nessuno che sopporti le torture fino alla morte. Cestino disse, io la conosco, la Mimma, lei non parlerà. E rimasero dove erano. Io ho provato uno strano sentimento, abbastanza simile alla rabbia, ma diverso. Una sorta di delusione nei confronti dell'amicizia che doveva unirli quanto e più degli stessi ideali che diritto avevano di darlo per scontato. Come si può pensare che un essere umano resista per sette giorni e sette notti a tanto orrore? Mimma lo ha fatto. Non ha parlato. Nessun altro venne catturato. Ma se avesse ceduto allo strazio del corpo e alle abominevoli umiliazioni inflitte al suo spirito, se Mimma avesse parlato sarebbe forse meno limpida la sua figura, meno giusto il bisogno di conservarne la memoria. Nessuno aveva il diritto di pretenderlo e neppure di aspettarselo. Grazie.